Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, è stato invitato da sei Rotari Bresciani per incontrare la cittadinanza e fare il punto della situazione dopo quasi sei anni di mandato. I Rotariani hanno potuto porre delle domande al sindaco su progetti futuri riguardanti la sicurezza, lo sviluppo economico e gli appuntamenti che proporrà la città. E quali sono le tematiche che voi porterete all'attenzione del sindaco? Beh dunque sicuramente il fatto che Brescia è in continua evoluzione porta sicuramente un discorso legato alla mobilità quindi un discorso legato ai possibili prossimi veicoli del futuro che si pensi siano elettrici e che quindi comporteranno anche un miglioramento a livello ambientale della nostra città che purtroppo sappiamo essere parecchio inquinata. Questo quantomeno è una delle cose più importanti. Poi ci saranno altre indicazioni immagino che riguarderanno la possibilità di creare nuovi musei, di creare comunque alla fine una città bresciana molto proiettata verso il futuro e molto effettivamente moderna sotto questo punto di vista. Beh assolutamente Brescia come dicevo è in evoluzione e sicuramente il Rotary ha una importanza strategica in quelle che sono le scelte che vengono fatte all'interno della città perché i rotariani sono tutte persone di un particolare livello di sensibilità assolutamente e quindi sicuramente possono dare un contributo molto importante al futuro di Brescia.